Bella vittoria, finalmente ci siamo scrollati questo peso di dosso, ma era importante dare continuità alla vittoria sul Frosinone, se no non avremmo ottenuto niente, non avremmo fatto quel balzello in avanti, l'abbiamo fatto su un campo difficile, siamo partiti forte, veramente forte e poi dopo abbiamo gestito abbastanza bene, tranne il primo tempo abbiamo sofferto un paio di occasioni, però felicissimi soprattutto di non aver subito il gol per la seconda partita di fila davanti a un bellissimo nostro pubblico, quindi passeremo una bella domenica. Siamo in salute, poi è normale che i risultati portano entusiasmo, portano meno fatica, quindi andremo lì a giocarcela con personalità e vedremo di ottenere un risultato positivo perché il nostro cammino è appena iniziato. Grazie a tutti.